Sì, dall'inizio il Mist c'è Chet, che sarebbe una partita completamente diversa, una squadra molto intensa che gioca uomo contro uomo in questa partita. Il Mist ha deciso che è meglio giocare un po' più lungo direttamente con Edding perché loro giocavano uomo contro uomo e pensavamo che era lo migliore per la squadra. È stato così, una partita durissima, credo che la squadra ha giocato molto bene, soprattutto il primo tempo. Sì, che è vero, al secondo tempo abbiamo preso gol troppo veloce, dopo il primo minuto è entrato un po' più difficile, ma credo che la squadra ha lottato fino alla fine e credo che è una vittoria importantissima per noi. Abbiamo iniziato un po' così così all'inizio dopo la quarantena, ma adesso siamo, credo, in un buon momento e arriva a una partita importante per rimanere nel posto più alto della classifica perché è dove deve stare la Roma. È vero che abbiamo preso tanti gol in questa stazione, il Mist sta provando a trovare quello che è meglio per la squadra e magari sì che è vero che quando abbiamo cambiato a 5 la squadra si trova un po' meglio. Anche dipende dal Mist, dipende dalla partita e dalla sua scelta, pensando sempre nel beneficio della squadra. Quando vinci le cose sono più facili e più forze, sì che è vero che in questo momento magari la squadra sta un po' meglio rispetto all'inizio, ma è una cosa normale. Dopo tanto tempo senza giocare, con un mese così un po' stanno, senza sapere quando sarebbe la prima partita, era un po' difficile. Ma credo che la squadra si trova bene, vedere i giocatori come Jordan, come corrono tutta la partita, è una cosa bellissima e incredibile. La squadra ha fatto una partita molto buona oggi e molto seria. È molto diverso rispetto a quello che ho fatto sempre in Spagna, all'inizio è stato un po' duro il cambio, ma bene, mi sento molto bene. Una cosa importante è che quello che stiamo facendo all'allenamento sono cose che dopo posso trovare nella partita, quindi contento. Sono contento con il lavoro, sapendo che lavorare con Savlani è sempre un lavoro molto duro anche fisicamente, ma mi trovo bene migliorando ogni cosa, perché a lui piace migliorare anche ogni piccolo dettaglio, quindi per me è contento, contento per come stanno facendo tutto e per come sto giocando questa prima stazione mia in Italia.